filastrocca di capodanno di gianni rodari nella notte di capodanno quando tutti a nanna vanno è in arrivo sul primo binario un direttissimo straordinario sul primo vagone sulla soletta c'è una simpatica vecchietta deve amare molto la polizia perché una scopa le fa compagnia dalla sua gerla spunta il pedino di una pambola o d'un muratino ho tanti nipoti borbotta ma tanti e se volete sapere quanti contate tutte le calze di lana che aspettano il dono della befana a a Grazie a tutti.